allora eccoci qua per gli ultimi due incontri del dual match tra Italia e Moldavia sono i due incontri consentitemi più interessanti il decimo ovvero quello che stiamo seguendo in questo momento vede Muidin Aziz Abes pugile italiano del gruppo sportivo Fiamme Oro 57 match con 47 vittorie un pareggio e nove sconfitte il suo avversario è Alexander Burdi Uja non abbiamo dati di Burdi Uja però sappiamo e conosciamo molto bene Aziz Aziz è un pugile probabilmente il migliore che in questo momento il panorama della nazionale elite può presentare l'or scorso anno ha veramente vinto dappertutto vent'anni Oro Torneo Zurini Junior campione italiano signore junior quarto al campionato del mondo youth bronzo al campionato europeo under 22 nel 2017 Oro al campionato europeo nel 2018 Oro al campionato europeo 2018 Oro Under 22 e Oro ai giochi del Mediterraneo nel 2018 c'è lo scorso anno dove è andato ha vinto Aziz Abes Mugidine e nell'intervista all'inizio del nostro collegamento streaming anche Roberto Cammarelle ci ha sottolineato come tenere d'occhio questo pugile che però sappiamo essere contrapposto ad un valente avversario del quale non abbiamo i dati la nazionale moldava non ce li ha comunicati ma sappiamo essere tutti pugili coriacei molto difficili da leggere sotto l'aspetto tecnico ma sicuramente Aziz è in grado di vincere anche questa battaglia siamo ai 91 kg ecco Aziz che va a segno con il destro i consueti movimenti un po anche tipici quasi fisici della scuola nordafricana anche se italianissimo Mugidine anche se adesso ha preso un colpo da Burdiusha ecco il moldavo che indietreggia l'italiano lo chiude nell'angolo adesso qui cerca qualche colpo e sono colpi pesanti sono pugili di 91 kg e poi strutturato bene Aziz e quindi si sentono eh si sentono calzettoni gialli fosforescenti casomai l'avversario non lo vedesse al buio Aziz dice mi vedi qui con i miei calzettoni catarin frangenti jeb che stava per partire adesso ricomincia subito ricomincia subito urlano dall'angolo 10 secondi alla fine della ripresa una ripresa abbastanza equilibrata tutto sommato Aziz adesso qua però è andato bene con un sinistro ha cercato di costruire ma è bravo questo Alexander Burdiusha che si è ben difeso anzi in un paio di situazioni non ha messo in difficoltà Aziz però è riuscito nel suo intento di portare a bersaglio qualche qualche colpo siamo nell'intervallo tra la prima e la seconda ripresa del decimo incontro siamo sui 91 kg Aziz come viene chiamato Mujidin Aziz Abess Pugilè ripeto interessantissimo uno di quelli che non solo ambisce ad andare a Tokyo 2020 ma può anche avere ambizioni di medaglia poi certo il torneo olimpico è un campionato questo a sé lo sappiamo quindi difficilmente pronosticabile però bravissimo anche questo Alexander Burdiusha ci perderanno ci perdoneranno gli amici moldavi che ci seguono in streaming in questo momento in diretta per la mia cattiva pronuncia qui Aziz volano fendenti da una parte dall'altra poi allargano le braccia correttamente come a dire ok ricominciamo movimenti veramente da cobra schivata del moldavo movimenti da cobra per l'italiano che adesso qua è riuscito in una bella combinazione anticipando le intenzioni dell'avversario grazie a tutti grazie a tutti ecco Aziz che cerca di chiudere all'angolo il pugile moldavo che poi spinge via l'italiano nuovamente colpi poi legano si è buttato leggermente in avanti momento nuovamente di studio poi parte Aziz si che comunque ha costruito di più adesso qua riesce in qualche modo break si ricomincia ecco ecco Aziz che deve trovare la distanza col destro adesso adesso ricomincia l'azione bene in questa fase del match ecco e finisce proprio la ripresa con una bella azione del pugile italiano però abbiamo detto è bravo anche questo alexander burdiuscia i consigli all'angolo proprio del moldavo adesso siamo quasi curiosi di vedere se riparte la vigorosa sventagliata di asciugamano così non è e no si va eccola qua immancabile comprensibile fa caldo al palazzetto di gagliate però è più quasi una abitudine quasi un tic nervoso all'angolo moldavo più che una necessità o una efficacia si ricomincia con la terza ed ultima ripresa di questo interessante incontro tra Muj Idin Aziz Abes che noi chiamiamo Aziz come tutti del gruppo sportivo Fiamme Oro in rosso Pugile Italiana contrapposta al moldavo in blu Alexander Burduja Aziz avanza cercando la costruzione del colpo e la distanza del destro qui finta con i suoi movimenti anche atti a disorientare gli avversari qui schiva un gancio del moldavo e poi riesce a ricominciare la sua azione adesso entrambi aspettano l'iniziativa dell'avversario per poi anticipare poi alla fine è Aziz che decide di costruire l'azione vediamo anche in questa fase è di nuovamente poi indietreggia bene rimette un destro sinistro destro e poi il moldavo ha cercato di ribaltare l'azione Aziz con grande capacità si è riposizionato è partito con un tentativo d'attacco il moldavo Aziz è andato indietro e poi ha ricominciato la costruzione del suo pugilato centro del ring per il pugile italiano qui abile il moldavo a schivare il colpo intelligente Aziz a fermare qualsiasi intenzione bellicosa poi mette adesso in questo momento un destro eravamo assolutissimamente in linea abbiamo visto partire il colpo e arrivare a segno anche in questo caso cerca con il destro la misura che è un po' mancata nella seconda ripresa che è arrivata nella terza misura e tempo migliorati per Aziz in questa terza ripresa 10 secondi alla fine dell'incontro due colpi e scappa via poi ne mette un altro all'angolo il moldavo che qui deve far qualcosa per andare via da questa situazione arriva al gong bellissimo incontro bellissimo incontro tra uno dei talenti più puri del pugilato italiano Mujidin Aziz Abes contro un valente avversario come Alexander Burdugia siamo curiosi di aspettare il verdetto che comunque dovrebbe essere a vantaggio del pugile italiano seguito da Giulio Coletta Fabrizio Cappai e Gennaro Moffa ecco che l'arbitro Valentino chiama i due pugili ecco il verdetto vince ai punti l'italiano Aziz Abes Mujidin bene molto bene bravo Aziz bravo 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 hai un nome cognome complicato e quindi continueremo a chiamarti Aziz come abbiamo sempre fatto per semplificare il lavoro mio e anche di tutti coloro che devono chiamarti bravo Aziz consegna del consueto trofeo e quindi inquadratura finale prima di passare all'ultimo match l'unico femminile in programma in questa nostra serata di dual match tra la nazionale italiana e quella Moldava ecco la consegna finale e quindi prepariamoci perché tra poco andremo a seguire l'ultimo incontro tra Giulia Lamagna e Cristina Kravceco l'unico 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 l'unico